che meraviglia questa ce l'ho io in salotto, l'ho comprata anch'io l'ho messa in salotto vicino a un Mario Schifano che queste sono opere che possono stare vicino ai grandi artisti mi ricorda qualcosa? Notte e Stellata, mi ricorda qualcosa? qualche artista, qualche... Van Gogh? Sì, Van Gogh Notte e Stellata, una grande visione di secondo Casadei che si avvicinava al genio alla fantasia all'estero di un grande pittore, no? e la sua musica, la sua melodia era potente come le pennellate di Van Gogh a tratti decisi sulla tela che imprimevano il concetto di Notte e Stellata ebbene, secondo Casadei l'ha presa in musica e noi quella musica l'abbiamo impressa su questo grande capolavoro, eh? ve la portiamo a casa, ve la facciamo vedere non vi vogliamo vendere niente non abbiamo bisogno di vendere noi della Casadei sonora, sa? vi stiamo facendo una cortesia grazie ho il caffè grazie si vinti qua intanto Marco, ma è bruciato? andiamo a fare un esperimento insieme andiamo a fare un esperimento insieme, signori una cosa di televisione innovativa, qualcosa di nuovo non mi viene in mente questo quadro si chiamerebbe Mamma no, Mamma è banale, no? perché non lo chiamiamo Energia? allora finisci qua adesso vi faccio vedere finisci qua vieni vicino, vieni vicino vieni vicino, vieni vicino pronto? vai Energia! molto meglio di mamma perfetto parla da solo io vado via vado via vado via queste parlano da solo via fa una bella carrellata lunga, gratte carrella? eh? scusa, ricca lo sai che vuol dire carrella? scusami vuol dire che ti devi muovere in orizzontale ah, bravo finisci il segno perfetto di nuovo indietro bravo, così perfetto scavalla lì scavalla di nuovo a stringere vai energia